8 palle perse e 3 su 12 al tiro dal campo esatto e adesso però palla recuperata Pascolo si invola in contropiede a realizzare con il fallo di Haro bel gioco contro la zona di Milano segna Pascolo Molto ben fatto Contecchio non aveva imparato la lezione che prima gli aveva regalato il canestro intanto ancora lui con il pallone va a servire l'assist per Pascolo e Milano rimette la testa subito avanti Pascolo sta giocando benissimo Boston Day è arrivato l'anno scorso a metà stagione con la consultiva e quest'anno in Eurolega con il Galatasaray mentre Pascolo spara da tre punti è nella partita Dada Pascolo vanno dell'Emporio Armani poi la ricezione per Pascolo che riapre per Abbas Gazzotti lo sconsiglia sul tiro allora Milano ritorna in angolo ancora con Dada Pascolo bella lettura del lungomilanese che realizza il più che buonissima tecnica al trentatresimo più cinque per l'Olimpia Pascolo alza la parabola il teardrop la lacrima di Dada Pascolo grazie a tutti grazie a tutti